E appassionati di motori iscritti a SuperNN Channel, benvenuti in questo nuovissimo video in cui parliamo del moto mondiale Allora, volevo fare un po' il punto fino a qui del mercato piloti, del 2020, i vari spostamenti Perché comunque ci sono degli spostamenti interessanti, seppur non essendo l'anno in cui i contratti finiscono Ricordiamo che i contratti della MotoGP vanno a due anni E diciamo che l'anno in cui i contratti finiscono e si devono rinnovare oppure si cambia scuderia Era l'anno scorso che abbiamo visto il passaggio di Lorenzo alla Honda Il passaggio di Petrucci dalla Ducati Satellite alla Ducati Ufficiale Insomma, l'anno scorso abbiamo visto tanti cambiamenti Ma anche quest'anno diciamo che la situazione è molto interessante Perché allora, cominciamo dal primo colpo di mercato piloti Non si può non parlare ragazzi ovviamente delle voci che si stanno sempre di più concretizzando E stanno aumentando di un possibile ritorno di Jorge Lorenzo in Ducati Ovviamente ragazzi non in Ducati Ufficiale Perché in Ducati Ufficiale ci sono Andrea Dovizioso al 100% E ancora non c'è niente di ufficiale Ma molto probabilmente la Ducati rinnoverà pure a Danilo Petrucci E quindi non in Ducati Ufficiale Bensì in Pramac Infatti la Pramac si è trovata sconvolta perché pensava di prendere Alex Marquez dalla Moto2 Invece Alex Marquez, fratello del pilota, sette volte campione del mondo Mark ha deciso che anche se quest'anno vince il campionato di Moto2 Ha deciso che anche l'anno prossimo, ovvero il 2020 Rimarrà col team Mark VDS in Moto2 Quindi Miller che ha rinnovato con la Ducati Pramac E sarà il primo pilota Jorge Lorenzo perché ragazzi la Pramac dovrà in qualche modo rimediare Perché ha praticamente licenziato Bagnaia Perché ha dato il tappeto rosso per Alex Marquez Ha preparato il tutto E poi non è arrivato E diciamo che adesso deve trovare qualcuno Perché ormai Bagnaia non lo può più tenere Perché ormai l'hanno licenziato Ormai finiscono la stagione insieme e basta Ma deve trovare qualcuno Quindi diciamo che c'è questa opzione di Jorge Lorenzo E c'è anche da dire che Prima della gara di Bernou Sky Sport MotoGP ha intervistato Alberto Puig Team manager Repsol Honda Team In cui dice che non risulta che Jorge a questo momento è a casa Perché appunto si è fatto male Dovrebbe ritornare verso il Gran Premio di Silverstone Insomma Alberto Puig dice che non gli risulta Che Jorge si trovi male alla Honda E che non gli risulta che voglia tornare in Ducati Allora Che non gli risulta che voglia tornare in Ducati Ci può anche stare Ma tu non mi puoi dire che non ti risulta Che Jorge non stia bene alla Honda Perché l'ha detto chiaramente Che la Honda preferisce Marquez Ha detto chiaramente che la Honda Ha fatto una moto Completamente per Marquez E ascoltando poco Lorenzo Quindi l'orghe si è lamentato più volte pubblicamente Lamentandosi dei metodi della Honda Quindi insomma Alberto Puig non può dire Che Jorge non si trovi male in Honda Ovviamente non può dire Che non vuole Che non c'è Può dire che non gli risulta che voglia andare in Ducati Ma secondo me dire addirittura Che non si trova male con la Honda Insomma ora come ora mi sembra un po' Mi sembra un po' Difficile da dire Anche perché è palese che Orghe si trovi male con la Honda Ha fatto a me metà stagione Poi vabbè lasciamo fare che si è fatto male ad Assen E ha saltato tre gran premi E rientra a Silverstone Però ha fatto praticamente la prima metà di stagione Completamente fuori dai 10 Sempre dopo se non cade Se non si è ritirato come ad Austin Lamentandosi dopo le gare Forse l'unica gara decente che poteva fare Era a Barcellona Ma poi insomma abbiamo visto tutti Com'è andata Detto questo Passiamo invece con La Yamaha La Yamaha che ha riconfermato Valentino Rossi Ci sono addirittura adesso Prima dalle voci di ritiro Siamo basati alle voci di un prolungamento del contratto di Rossi con la Yamaha Fino al 2022 Ora mi sembra un po' presto Soprattutto perché siamo in uscita adesso Da un periodo in cui si parlava solo e solamente del ritiro di Rossi Quindi ora cominciare già a parlare del 2022 Insomma mi sembra che la situazione non sia abbastanza chiara in questo momento Maverick Vignales mi sembra che ora come ora stia lavorando bene La Yamaha si trovi bene Quindi ancora non ci sono stati diciamo Dei licenziamenti da parte dei piloti Insomma se continua così anche nel 2020 Rimarrà Rimarrà sempre la solita coppia Rossi Vignales Dal 2017 Adesso passiamo invece a parlare della Suzuki Suzuki che attenzione attenzione Tiene Rins ma probabilmente Molto probabilmente non tiene Mir Perché si aspettava di più da Mir Perché avevano obiettivi diversi Ora io dico no? Cioè tu non puoi prendere un ragazzo Campione del mondo di Moto3 Con un solo anno di esperienza in Moto2 E non ha neanche vinto una gara Cioè come ti puoi aspettare che raggiunga risultati Tipo arriva sempre nei top 5 Che sono un po' gli obiettivi Che ha ora come ora la Suzuki E questo è Quindi Mir dovrebbe andare via A un certo punto si è parlato addirittura Di un Rossi in Suzuki nel 2020 Però Rossi in Suzuki nel 2020 ovviamente Non ci sarà Dopo il 2020 non lo so La Honda ne abbiamo già parlato I team minori ragazzi Allora per quanto riguarda i cambiamenti ufficiali Niccolò Bulega E Lorenzo Baldassarri Allora Niccolò Bulega Abbandona proprio il team di Valentino Proprio il team in Moto2 E va in un altro team E ovviamente anche l'Academy Baldassarri che non era nel team di Valentino Ma è con il team di Sido Pons Abbandona l'Academy Quindi diciamo che sia Lorenzo Baldassarri Che Niccolò Bulega Diciamo vanno via dal team di Valentino E un po' ragazzi mi sembra giusto Perché ora cominciano ad essere cresciuti E cominciano ad andare anche nella classe maggiore Perché insomma Ora della scuola di Valentino Ce ne sono già due Ma ora cominceranno a venire tutti i MotoGP C'è Pecco e c'è Morbidelli Ma ora arriverà Baldassarri Perché è molto competitivo in Moto2 Quindi magari se non nel 2020 Nel 2021 un contrattino In MotoGP ce l'avrà Anche se non è della scuola di Vale Di Gian Antonio viene su Anche se è il primo Bastianini Bezzecchi Insomma tanti ragazzi che ora sono a fare la Moto2 Sono alle prime armi Però insomma secondo me tra qualche anno Li potremo vedere anche in sella delle moto maggiori Niente ragazzi Questo video era molto breve Volevo fare un punto sulla situazione Del campionato nel 2020 Queste saranno le selle E niente Tra un po' Non lo so Penso o domani o domani all'altro Uscirà un video della Formula 1 Perché ragazzi Tra un po' Adesso arrivano due piste favorevoli alla Ferrari Spa e Monza E andiamo ad analizzare i vecchi gran premi In più le possibilità che hanno effettivamente le Ferrari Di vincere nei circuiti Del Belgio e dell'Italia Detto questo Spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace Per supportarmi E iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Attivate la campanella Nelle notifiche Per ricevere notifiche per altri nuovi video E niente Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi